Prepariamoci a intraprendere un viaggio unico attraverso queste destinazioni affascinanti, dove la natura si unisce al lusso, la cultura si intreccia con l'avventura, creando il perfetto scenario per vacanze davvero mozzafiato. L'isola di Bora Bora. Bora Bora è un'isola situata nell'oceano Pacifico, parte dell'arcipelago delle isole della società in Polinesia francese. Le acque intorno a Bora Bora sono famose per la loro incredibile chiarezza e tonalità di blu e verde. La barriera corallina circostante contribuisce a mantenere le acque calme e ideali per il nuoto, lo snorkeling e le attività acquatiche. Essa è celebre per i suoi bungalow sull'acqua, che offrono lusso e intimità. Queste strutture sono costruite su palafitte direttamente sull'acqua cristallina e offrono viste spettacolari sull'oceano e sull'isola. L'isola è dominata da una montagna vulcanica chiamata Monte Otemanu. I paesaggi sono caratterizzati da colline verdi, giungle lussureggianti, spiagge di sabbia bianca e palme che ondeggiano al vento. Le viste panoramiche dall'alto del Monte Otemanu sono semplicemente spettacolari. Oltre al nuoto e allo snorkeling, Bora Bora offre una vasta gamma di attività acquatiche, tra cui immersioni subacquee, pesca d'altura e escursioni in kayak. Le lagune tranquille sono perfette per esplorare la ricca vita marina. Pur essendo un paradiso turistico, Bora Bora conserva la sua autenticità culturale. I visitatori possono immergersi nella cultura polinesiana attraverso la danza, la musica, l'artigianato locale e la deliziosa cucina tradizionale. Con il suo ambiente idilliaco, Bora Bora è spesso considerata una destinazione romantica per le coppie in luna di miele o in cerca di una fuga romantica. Le notti stellate, i tramonti mozzafiato e l'atmosfera tranquilla creano un'esperienza indimenticabile per gli innamorati. Bora Bora rappresenta davvero una fuga paradisiaca con una combinazione unica di bellezze naturali, lusso e un'atmosfera esotica. Santorini. Santorini è un'isola affascinante nel mare Geo, appartenente all'arcipelago delle Cicladi, e offre un'esperienza unica per i visitatori. L'isola è famosa per la sua architettura iconica caratterizzata da edifici bianchi con tetti blu, che creano uno scenario pittoresco e mozzafiato. Questo stile architettonico è una delle immagini più riconoscibili dell'isola e contribuisce al suo fascino senza tempo. I tramonti di Santorini sono considerati tra i più belli al mondo. Le tonalità di rosso, arancione e rosa dipingono il cielo mentre il sole si tuffa nell'orizzonte, creando un'atmosfera romantica e indimenticabile. I punti panoramici come Oia sono particolarmente popolari per ammirare questi spettacoli naturali. A differenza delle tipiche spiagge di sabbia, le spiagge di Santorini sono spesso caratterizzate da ciottoli vulcanici, creando paesaggi unici. Le spiagge come Red Beach e Perissa offrono acque cristalline e opportunità per rilassarsi, nuotare e praticare sport acquatici. Oltre alla celebre Oia, Santorini è punteggiata da villaggi affascinanti come Fira, Imerovigli e Pyrgos. Questi luoghi conservano la loro autenticità con strette stradine, taverne tradizionali, e negozi artigianali, offrendo un'immersione nella vita locale. Santorini è ciò che resta di un'antica caldera vulcanica, e la sua geologia unica è evidente nella conformazione dell'isola. I visitatori possono esplorare la caldera attraverso escursioni in barca, ammirando i panorami mozzafiato e, in alcuni casi, facendo il bagno nelle sorgenti termali vulcaniche. La cucina di Santorini è deliziosa e offre specialità uniche. I visitatori possono assaporare piatti tradizionali come la moussaka, i suvlaki e il famoso, tomato keftez, polpette di pomodoro. I vini locali, in particolare la Sirtico, sono rinomati e possono essere degustati presso le numerose cantine dell'isola. Santorini incanta i suoi visitatori con la sua bellezza straordinaria, la sua storia ricca e la sua atmosfera romantica, rendendola una delle destinazioni più affascinanti della Grecia. La città di Kyoto. Situata nell'isola principale del Giappone, è una città che incarna la ricchezza della storia e della cultura giapponese. Kyoto è famosa per la sua straordinaria collezione di templi antichi. Tra i più noti vi è il Kinkaku-ji, il Tempio d'Oro, con le sue pareti rivestite in foglia d'oro, e il Kiyomitsu-dera, con una piattaforma panoramica che offre viste spettacolari sulla città. Gli antichi templi shintoisti e buddhisti si integrano perfettamente nel paesaggio urbano, offrendo uno sguardo al passato spirituale del Giappone. La città è anche rinomata per i suoi giardini tradizionali giapponesi. Il giardino gioiello del Palazzo Imperiale, ad esempio, presenta un paesaggio sereno di stagni, ponti e vegetazione lussureggiante. Gli amanti della natura possono passeggiare attraverso giardini zen, godendo della tranquillità e della bellezza paesaggistica. Kyoto è un centro di artigianato tradizionale giapponese. Il quartiere di John è famoso per le sue strade di ciottoli e le case tradizionali, oltre ad essere noto come il quartiere delle geisce. I visitatori possono immergersi nella cultura geisha partecipando a spettacoli tradizionali o godersi una cena in uno dei ristoranti tipici. La città ospita numerosi festival tradizionali durante tutto l'anno. Il John Matsuri, uno dei più famosi, si tiene a luglio e presenta parate colorate e antiche tradizioni che risalgono a secoli fa. I festival offrono un'opportunità unica di vivere l'atmosfera gioiosa e festosa del Giappone tradizionale. Kyoto è al centro della cerimonia del tè giapponese, e i visitatori hanno l'opportunità di partecipare a una cerimonia del tè autentica. Le case del tè, note come, shaya, sono disseminate per la città e offrono un'esperienza unica per gustare il mecha, il tè verde in polvere, in un ambiente tradizionale. La città ospita numerosi musei d'arte e gallerie che celebrano l'arte tradizionale giapponese, inclusa l'arte delle stampe ukiyo e la ceramica. Il Museo d'Arte Nazionale di Kyoto è uno dei più importanti, con una vasta collezione che spazia dalle epoche antiche fino all'arte contemporanea. Kyoto, con la sua straordinaria conservazione delle tradizioni, è un luogo che cattura l'essenza dell'antico Giappone, rendendo la visita un'esperienza indimenticabile per coloro che cercano la storia e la cultura autentiche. Bariloche Bariloche, situata nella regione argentina della Patagonia, è una destinazione straordinaria che incanta i visitatori con la sua maestosa bellezza naturale e le numerose opportunità per gli amanti degli sport all'aria aperta. Bariloche è circondata da montagne imponenti delle Ande, che offrono scenari mozzafiato e sono perfette per gli appassionati di escursioni e alpinismo. Picos come il Cerro Catedral sono mete popolari per chi desidera godere di spettacolari panorami e avventura in montagna. La regione è punteggiata da laghi cristallini, tra cui il lago Nawel Wapi e il lago Moreno. Le acque serene e azzurre offrono la possibilità di praticare sport acquatici come il kayak, la vela e la pesca, mentre le rive panoramiche sono ideali per rilassarsi e godersi la bellezza circostante. Durante l'inverno, il Cerro Catedral diventa un rinomato centro sciistico. Le piste ben mantenute e la polvere fresca attraggono gli amanti dello sci e dello snowboard da tutto il mondo, trasformando Bariloche in una destinazione invernale di prim'ordine. La regione offre una vasta rete di sentieri escursionistici e trekking che conducono a paesaggi sorprendenti, tra boschi lussureggianti, cascate spettacolari e viste panoramiche sulle valli circostanti. L'Escuela Andina, ad esempio, offre un'ampia gamma di escursioni guidate. Bariloche è famosa per la sua cucina regionale, che include prelibatezze come l'agnello patagonico, il cioccolato artigianale e le torte al maiale. La città è un luogo ideale per assaporare le specialità locali e scoprire la gastronomia argentina. Situata nei pressi di Bariloche, Villa La Angostura è un pittoresco villaggio di montagna noto per la sua architettura alpina, i ristoranti accoglienti e le opportunità di escursioni nei dintorni, incluso il Parco Nazionale Los Arrayan. Questo percorso panoramico conduce attraverso alcune delle attrazioni più iconiche della regione, offrendo viste spettacolari sul lago Nawelwapi, il cerro campanario e altro ancora. Bariloche è una destinazione che cattura il cuore degli amanti della natura e degli avventurieri, offrendo un connubio straordinario di paesaggi mozzafiato e opportunità di attività all'aria aperta in ogni stagione dell'anno. Queenstown. Situata nell'isola del sud della Nuova Zelanda, è una destinazione eccezionale che attrae gli avventurieri con la sua vasta gamma di attività emozionanti e il suo ambiente spettacolare. Queenstown è rinomata per essere la patria del bungee jumping. Il famoso Kawarau Bridge è il luogo dove è nato il primo salto commerciale al mondo nel 1988. Oggi, ci sono diverse opzioni di bungee jumping, tra cui il Nevis Bungie, uno dei più alti al mondo. La regione circostante Queenstown è un paradiso per gli amanti dell'escursionismo e del trekking. Sentieri come il Ben Lomond Trek offrono viste spettacolari sulla città, sul lago Wakatipu e sulle Alpi del Sud, mentre le escursioni più lunghe portano attraverso paesaggi montani selvaggi. Queenstown è situata sulle rive del pittoresco lago Wakatipu, offrendo opportunità per praticare sport acquatici come il kayak, il jet boat, il parasailing e il paddleboarding. La città è un punto di partenza ideale per esplorare la regione dei fiordi del sud. Durante l'inverno, Queenstown si trasforma in una destinazione sciistica di fama internazionale. Le stazioni sciistiche circostanti, come Coronet Peak e The Remarkables, attirano appassionati di sci e snowboard con le loro piste ben curate e panorami spettacolari. Si possono godere i panorami mozzafiato della regione, con escursioni in elicottero o in mongolfiera. Queste attività offrono un'esperienza unica e indimenticabile per ammirare le Alpi del sud, i laghi e i paesaggi montani. Queenstown è nota anche per i suoi campi da golf spettacolari. Il Millbrook Resort Golf Course è uno dei più prestigiosi, con fairway ben curati e una vista panoramica sulle montagne circostanti. Dopo una giornata piena di avventure, Queenstown offre una vivace vita notturna con bar, pub e ristoranti. Queenstown ospita numerosi festival e eventi durante tutto l'anno, tra cui il Queenstown Winter Festival e il Queenstown Bike Festival. Queste celebrazioni contribuiscono a rendere l'atmosfera della città ancora più vivace e festosa. Queenstown è davvero una destinazione completa per gli amanti dell'avventura, offrendo una combinazione unica di emozionanti attività all'aria aperta, paesaggi mozzafiato e un'atmosfera vibrante. Islanda L'Islanda è una terra magica e affascinante, ricca di meraviglie naturali uniche al mondo. L'isola è famosa per i suoi geyser, con il Geysir e l'Estrokur che eruttano regolarmente colonne d'acqua e vapore nell'aria. La regione di Aukadalur è un vero e proprio spettacolo geotermico, con fumarole, pozze di fango bollente e sorgenti termali. L'Islanda è punteggiata da numerose cascate mozzafiato. La cascata Galfos, con le sue doppie cascate che si gettano in un profondo canyon, e la cascata Selja Lensfos, dietro la quale è possibile camminare, sono solo due esempi della bellezza naturale dell'isola. L'isola è caratterizzata da paesaggi vulcanici unici, con campi di lava nera, formazioni rocciose scolpite e montagne vulcaniche spettacolari. Il Parco Nazionale di Vatnajokut offre una varietà di paesaggi, tra cui ghiacciai, vulcani e laghi glaciali. L'Islanda è uno dei migliori luoghi al mondo per avvistare l'aurora boreale. Le fredde notti invernali offrono l'opportunità di ammirare le danze colorate delle luci del nord nel cielo, creando uno spettacolo magico e suggestivo. Gli islandesi amano rilassarsi nei bagni termali, e l'Islanda è famosa per le sue piscine geotermali. Il Blue Lagoon è uno dei luoghi più iconici, con le sue acque azzurre ricche di minerali che offrono un'esperienza unica di relax. Nonostante il clima rigido, l'Islanda ospita una varietà di fauna selvatica. Lungo le coste è possibile avvistare foche e uccelli marini, mentre nelle regioni interne è possibile vedere renne e pecore selvatiche. La capitale islandese, Reykjavik, è una città vivace e moderna che offre una combinazione unica di cultura, arte, e vita notturna. Il famoso Arpa Concert Hall e la Hallgrimskirkja, una imponente chiesa moderna, sono solo alcune delle attrazioni della città. L'Islanda offre una vasta rete di percorsi escursionistici e trekking attraverso paesaggi mozzafiato. Le islands centrali sono una destinazione popolare per escursioni più impegnative, mentre le regioni costiere offrono sentieri più accessibili. L'isola ha una ricca storia e cultura. I visitatori possono esplorare antiche saghe, visitare musei storici, e conoscere la tradizione islandese attraverso l'arte, la letteratura e la musica. L'Islanda è davvero un luogo magico che offre un'esperienza unica e indimenticabile per chiama la natura incontaminata e le meraviglie geologiche. Maldive. Le Maldive sono un paradiso tropicale conosciuto per la sua bellezza naturalistica e l'atmosfera idilliaca. Le spiagge delle Maldive sono spettacolari, con sabbia bianca finissima che si estende per chilometri lungo le coste. Queste spiagge offrono il luogo ideale per rilassarsi, prendere il sole e godersi il suono rilassante delle onde dell'oceano. Le acque che circondano le Maldive sono famose per il loro colore turchese cristallino. La trasparenza dell'acqua consente di vedere la ricca vita marina, creando uno scenario idilliaco per le attività acquatiche e lo snorkeling. Questo magnifico paradiso tropicale è formato da un insieme di atolli corallini che creano lagune protette e ricche di vita marina. Gli atolli forniscono anche un'eccellente barriera contro le onde dell'oceano, creando acque calme e sicure. Le Maldive sono un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee. Le barriere coralline sono abitate da una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci colorati, squali, mante e tartarughe marine. Le Maldive sono famose per i loro resort di lusso situati su atolli privati. Questi resort offrono bungalow sull'acqua, spesso costruiti direttamente sulla laguna, con accesso privato all'oceano e viste panoramiche. Molti resort delle Maldive offrono esperienze benessere uniche, come spa sull'acqua. Goditi massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza mentre sei circondato dalla tranquillità dell'oceano. Un'esperienza tipica delle Maldive è una crociera in Doni, una barca tradizionale maldiviana. Queste imbarcazioni offrono un modo affascinante per esplorare le isole circostanti e vivere un'autentica avventura maldiviana. Sperimenta la deliziosa cucina maldiviana nei resort e nei ristoranti locali. I piatti a base di pesce fresco, cocco e spezie locali offrono un assaggio autentico della cultura culinaria delle Maldive. Nonostante la vocazione turistica, le Maldive conservano una cultura unica. Spettacoli culturali, artigianato locale, storia e tradizioni sono solo alcune delle qualità di queste isole. Le Maldive sono conosciute per la loro atmosfera rilassata e tranquilla. Gli ospiti possono godere di giornate di ozio sulla spiaggia, romantiche passeggiate al tramonto e momenti di assoluto relax. Sono un vero paradiso tropicale, offrendo una combinazione irresistibile di bellezze naturali, lusso e tranquillità. Un'esperienza unica che attrae viaggiatori in cerca di un rifugio esclusivo nella bellezza dell'oceano indiano. Che si tratti delle acque cristalline delle Maldive o delle cime imponenti di Queenstown, ogni luogo offre un'opportunità unica di esplorare il mondo e creare ricordi indelebili. Le vacanze diventano così un viaggio oltre il semplice spostamento geografico, trasformandosi in un'esperienza che cattura i sensi e arricchisce l'anima. Quindi, quale di queste destinazioni sarà la vostra prossima avventura? Lasciatevi ispirare e preparatevi a vivere un'indimenticabile fuga verso il sublime. Grazie. Grazie.